Si chiama Raquel Taylor, è una infermiera di 22 anni di età che sorregge la testa di una donna vittima di un incidente e questa foto sta facendo il giro del web. La donna Raquel ha assistito ad un incidente il giorno del suo matrimonio, si ferma in strada, vestita ancora da abito o da sposa per aiutare i soccorritori. Ha dell'incredibile questa foto che è stata scattata tra le strade South St. Paul, nello stato del Minnesota, negli Stati Uniti d'America. La donna si era appesa sposata, è stata tornata a casa dal ricevimento di nozze quando ha visto l'incidente e quindi ha deciso di aiutare i relativi soccorritori vedendo la scena istinta a prevasso, perché ha stato meglio di accostare la macchia e ha dato una mano. Una vettura era piombata su un gruppo di persone, firme a borda strada per discutere di un tamponamento che non aveva creato feriti, ma soltanto danni ai mezzi. Vi ringrazio per l'ascolto, cari utenti di YouTube, il video termina qua. Iscrivetevi se vi va, commentate, al prossimo video da un narrato italiano. Iscrivetevi al nostro canale.